In aumento nel 2018 gli incidenti mortali sul lavoro, soprattutto se si utilizzano mezzi di trasporto. Secondo la classifica stilata dall'INAIL e riferita agli ultimi due anni, tra le province italiane che registrano una maggiore incidenza di infortuni mortali ci sono Trapani con il 3,8 per mille e Agrigento con il 3,1 per mille, rispettivamente all'ottavo e al nono posto. Secondo l'Istituto le cause potrebbero essere riconducibili alla scarsa attenzione alle norme di sicurezza e per la maggiore concentrazione delle occasioni di lavoro nei settori a rischio come agricoltura e costruzioni. Molto meglio la provincia di Palermo con l'1,59 per mille contro una media nazionale del 3,96. Tra le malattie professionali, secondo il report, spiccano i tumori che sebbene in diminuzione sono ancora un numero preoccupante. La maglia nera va a Gorizia che fa registrare il numero più alto di malattie professionali tumorali, il 22,5% ma preoccupante è la situazione anche a Siracusa con il 15% e Palermo con il 14,6%. Patologie contratte dai lavoratori impegnati nei settori chimico, petrolchimico, gomma e plastica. I dati pubblicati dall'Inail sono stati analizzati dall'osservatorio statistico dei consulenti del lavoro in occasione della giornata mondiale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che ricorre domani, nata per focalizzare l'attenzione sull'importanza della prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro e delle malattie professionali.